Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, andiamo ad aprire insieme un nuovo film, un unboxing, che aspettavo da tempo perché questo è un film veramente importante. Sto parlando del nuovo Matrix Resurrection che tutti gli amanti di questo franchise, diciamo, di questa saga di film ormai attendeva da tantissimo tempo. C'era bisogno di un quarto capitolo di Matrix? Non lo so, sicuramente non posso dirlo io, questo ne parleremo insieme nei commenti. Per quanto riguarda questo video, adesso andremo ovviamente a fare l'unboxing insieme, vediamo le caratteristiche audio-video, ovviamente come si compone la confezione e poi spegniamo due chiacchiere proprio al volo sul film. Ok, allora andiamo ad aprire qui la confezione, cercando ovviamente di non rovinare la slipcase che tanto ci piace e andiamo a vedere come si compone all'interno questo Matrix Resurrections. Sono molto curioso perché di base io non ho ancora visto il film, non sono andato al cinema ma non ho avuto l'opportunità e il modo di andarci, per cui lo vedrò per la prima volta in home video. Allora, all'interno troviamo il disco 4K HDR e vediamo che è in Dolby Vision, quindi sicuramente un valore aggiunto da non sottovalutare, quindi avremo una qualità video non indifferente, mentre poi abbiamo il normale Blu-ray, che ormai così serve giusto per riempire lo spazio sulla destra o a sinistra a volte nella confezione, perché chiaramente noi vediamo solo il 4K quando acquistiamo il 4K. Ovviamente, se ci interessa il Blu-ray o il DVD, acquistiamo direttamente quelle versioni. Per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche audio e video, allora innanzitutto andiamo a vedere che abbiamo una durata di 147 minuti, quindi più o meno come gli altri, forse leggermente più lungo. Abbiamo, come abbiamo detto prima, il Dolby Vision e Dolby Atmos. Adesso andiamo a vedere, o sto notando con somma gioia, che abbiamo Dolby Atmos True HD italiano e inglese, quindi un film del genere con l'audio in Dolby Atmos in italiano, è sicuramente fantastico da vedere. Abbiamo ovviamente 2160p Ultra High Definition 16.9, 2.4.1 come aspect ratio, mentre chiaramente per quanto riguarda il Blu-ray normale abbiamo 1080p High Definition, mentre il resto è uguale. La traccia audio del Blu-ray è un DTS HD Master Audio, un italiano 5.1 classico, mentre i contenuti speciali non sono nel formato 4K o HDR e possono non essere in alta definizione. Ma insomma, io in generale non sono mai stato troppo un amante dei contenuti speciali, specialmente nei film di questo tipo, e quindi non ci faccio decisamente troppo caso. Che altro dire, vabbè, la confezione è la classica confezione di plastica, quindi insomma non c'è nulla di particolare da aggiungere, se non che finalmente abbiamo uno spazio dedicato al bollino Siae che non è messo a cavolo sopra i titoli e sopra i testi. Per cui, anche se è una cosa da poco conto, ve la segnalo lo stesso, perché mi è capitato moltissime volte di avere il bollino Siae messo proprio in mezzo, che non ci permetteva poi di leggere le varie informazioni del film. Che dire quindi, al di là del film di cui parleremo tra pochissimo, in generale il vero valore aggiunto, diciamo, di acquistare la versione in 4K, ammesso che abbiate un lettore e un televisore 4K per vederlo, è appunto la presenza del Dolby Vision, che sapete essere, diciamo, un'alternativa o forse un arricchimento dell'HDR 10, che, a differenza dell'HDR 10, permette, tra le tante cose, di avere i metadati dinamici e avere, diciamo, una profondità di colore a 12 bit e una luminosità fino a 10.000 nits. Poi è ovvio che, praticamente, queste luminosità e queste caratteristiche ancora non sono attuabili, nel senso che non esistono dei pannelli ancora che possono valorizzare queste funzioni, anche se, ovviamente, quando il Dolby Vision viene sfruttato, diciamo, al massimo delle potenzialità, anche su televisori come i nostri, rende l'esperienza visiva sicuramente ad un livello superiore. Poi, ovviamente, dobbiamo dire che nel prossimo futuro arriveranno i televisori con i microLED, che quindi valorizzeranno ancora di più questo aspetto, ma, insomma, questo non è l'argomento di questo video. Come vi dicevo all'inizio, per parlare e spendere due parole su questo film, insomma, serviva un quarto capitolo di Matrix? Onestamente non lo so, vi ho già detto, non l'ho visto ancora, quindi non so se mi piace o no, magari vi lascerò un commento, magari sotto questo video stesso, quando l'avrò visto, per farvi sapere cosa ne penso, ma, in generale, quello che credo è che comunque, essendo un franchise così importante, sicuramente fa piacere ai fan di vecchia data l'aggiunta di un nuovo capitolo. Probabilmente non aggiungerà nulla di nuovo, non aggiungerà cose importanti, però, insomma, fa sempre piacere vedere che i nostri titoli che ci sono tanto piaciuti in passato hanno un seguito, come, ad esempio, non so se sapete, in futuro arriverà Indiana Jones 5, io non vedo l'ora di vederlo, ma di questo ne parleremo prossimamente. A questo punto vi chiedo di farmi sapere nei commenti qui sotto, se voi l'avete visto, come immagino, fatemi sapere cosa ne pensate di questo film, e chiaramente vi chiedo il solito pollicenzu se vi è piaciuto il video, e vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!